Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo delle scene. Nello scorso video tutorial abbiamo parlato delle fonti. Le scene sono formate da fonti. Allora uno potrebbe domandarsi, ma beh, allora posso solo lavorare con le fonti. Io vi dico, se volete fare un video già fatto bene, e soprattutto senza fare nessuna post-produzione, lavorate con le scene. Adesso io sto utilizzando questa scena qui, che è praticamente uguale a questo screenshot che vi faccio vedere, che sarebbe il webcam grande, infatti vedete la scritta webcam grande, cioè c'è la webcam in grande e in piccolo il desktop, o al posto del desktop le slide che volete far vedere, o qualcos'altro. Invece, l'altra scena è questa qui, che è il desktop in grande e la webcam piccolo, ovvero al posto del desktop ci possono essere le slide. Adesso vi faccio un esempio di come lavoro io di solito. Allora, c'è un'altra scena che, se vedete, è scritto nero. Allora, faccio sempre partire il video con la webcam nera. Poi, siccome ho impostato 900 millisecondi, partendo da webcam grande, ok, inizia il video e il relatore parla così. Quando il relatore ha smesso di presentare se stesso, o chi rappresenta, o cosa sta cercando di spiegare in questo video, allora di solito si passa su relatore in piccolo e slide, o al suo argomento che vuole presentare, o il desktop se vuole far vedere il desktop. Questo è il mio modo di lavorare. Questo è il sistema per utilizzare le scene anche in tempo reale, e avere già tutto preimpostato per dire quando ho finito la mia registrazione video, non ho da fare nessuna post produzione, perché infatti posso finire il video con la sfumatura nero. Dopo aver detto, in questo video tutorial ho finito, e ci vediamo al prossimo.